La Presidenza del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico vuole fare chiarezza e riferimento ad alcuni servizi televisivi recentemente trasmessi e pubblicati, riferiti al caso Yara Gambirasio. Pur trattandosi di un'attività di ricerca effettuata in scenari non di stretta competenza del soccorso alpino e speleologico, la Direzione Nazionale, su specifica richiesta delle autorità, aveva deciso di impegnare le proprie unità cinofile garantendo quindi il massimo impegno e qualità operativa. Proprio i block bound infatti erano stati prescelti per la specifica e delicata attività in ragione del fatto che in attività istituzionale del Centro Nazionale Soccorso Alpino si fossero registrati e si registrano tutt'oggi numerosi casi certificati di ritrovamenti assolutamente complessi. Ciò non toglie che nonostante l'assoluta preparazione dei conduttori e nonostante il rigido e faticoso iter formativo e il certificativo ai quali sono sottoposti anche i cani, gli stessi possano sbagliare traccia, quindi l'obiettivo del ritrovamento per motivazioni tecniche e ambientali più diverse. In questo senso si desidera ricordare come da sempre approccio metodologico normalmente in uso al soccorso alpino, ci si affida alle unità cinofile con grande fiducia ma alla fine nell'attività di ricerca in ambiente ostile e impervio di competenza del soccorso alpino le scelte operative, ovvero quelle di carattere decisionale, le compiono gli uomini e non già il cane, pur importante e spesso fondamentale per gli aspetti indiziari. Ciò premesso prosegue il comunicato, viene rimarcato come dovrebbe essere in realtà già ovvio e scontato, la sintesi investigativa non possa essere fatta dai nostri o da altre razze appartenenti al soccorso alpino, diversamente impegnate in attività di ricerca, bensì spetti di necessità ad altri soggetti e autorità. Pensiamo quindi, continua la dichiarazione della Presidenza nazionale, che il flop, come già la pubblica opinione aveva compreso, debba essere diversamente indirizzato. Grazie a tutti.